vi voglio raccontare una storia era una calda giornata d'estate e alcuni amici mi chiesero di andare in piscina al pico verde io accettai l'invito e solo successivamente scoprì che sarebbero venuti anche due dei migliori eroi presenti sulla terra il toywent famoso per la sua capacità di generare onde anomale e romanella uno dei più famosi autolesionisti della storia arriviamo al parco e iniziamo ad ambientarci iscriviti al canale grazie a tutti grazie a tutti iscriviti al canale iscriviti al canale grazie a tutti gli scivoli erano per i due eroi una bazzeccola e avevano bisogno di più stimoli così decisero di dare il tutto per tutto grazie a tutti 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 grazie a tutti